Sono qui per parlarvi di una storia scura e tragica. Avete già capito che l'Europa è un mostro che va contro tutte le regole della teoria monetaria moderna e dell'economia moderna. Il problema è questo. Perché esiste un sistema così assurdo? Mi è stato detto che nel vostro paese, come nel mio del resto, alcune persone pensano che se riusciamo a liberarci dell'euro, l'Italia o la Francia potrebbero ritornare ad essere equiparabili ad alcuni dei paesi più poveri dell'Africa, come lo Zimbabwe. Ma l'economia reale dell'eurozona è già nello stesso stato dello Zimbabwe. Per esempio, vediamo alcuni dati sulla Francia. I francesi hanno inventato e imposto l'eurosistema molto, molto tempo fa. In Francia, il vero tasso di disoccupazione è di circa il 60% della popolazione attiva. E quindi abbiamo un vero tasso di inflazione del 7 o l'8%. Perciò non abbiamo la piena occupazione e non abbiamo una stabilità dei prezzi. Questo significa che tutti i dati ufficiali europei sono menzogne. Comincerò la mia presentazione vera e propria con una citazione del responsabile del Ministero delle Finanze francese. fra l'altro appartiene all'Ordine dei Benedettini, è un monaco ed è anche il capo dell'Opus Dei francese. La Commissione europea, fra le altre cose, è ampiamente controllata, come il governo francese, dall'Opus Dei. Ho parlato con lui di questa questione e mi ha detto sì, l'economia francese è morta, ma non è abbastanza. Mi ha detto, professore, lei deve capire perché esiste il sistema europeo. Che cosa vogliamo? Vogliamo distruggere per sempre la gente. Vogliamo creare una nuova tipologia di europeo, una nuova popolazione europea disponibile ad accettare la sofferenza, la povertà, una popolazione disposta ad accettare salari inferiori a quelli cinesi. e questo rappresenterà il centro del mio intervento. Il sistema dell'euro non è stato mai pianificato per portare ad una unione monetaria. non è stato neanche pianificato come agenda l'io neoliberista, l'economia neoliberista all'americana. infatti questo è stato ed è ancora completamente ignorato dall'élite dominante europea. Basta pensare che anche per il leader del partito socialista francese, il presidente Obama è un marxista. quindi che cos'è l'euro? è un nuovo ordine sociale totalitaristico che è stato programmato molto tempo fa, nel periodo fra le due guerre e poi completato, per così dire, dal regime di François Mitterrand. in questo nuovo ordine non ci saranno più stati sovrani. lo Stato deve svanire o perlomeno lo Stato che trova radici nella democrazia nel Parlamento nella Repubblica. nel nuovo ordine nel nuovo ordine il potere deve essere interamente trasferito a coloro che lo meritano e questo significa un'élite una classe una classe capitalista di tecnocrati ai quali piace il potere di controllo assoluto. Nella prima parte nel mio intervento cercherò brevemente di spiegare la storia della pianificazione dell'Unione Monetaria Europea che trova origine nel periodo fra le due guerre nelle parti più razionarie e più conservatrici della classe dominante francese. Mi rifaccio anche a un filosofo italiano Giulio Evola che aveva accusato Mussolini di essere troppo morbido con la gente e che aveva accusato Adolf Hitler di essere troppo favorevole alla gente. nella seconda parte del mio intervento cercherò di spiegarvi che la cosiddetta crisi del debito sovrano è ovviamente un evento che non si è mai verificato nella storia ma una crisi di questa portata è stata attentamente pianificata dagli architetti del sistema europeo. Quel che avevano in mente era di privatizzare lo Stato e dato che ritenevano che lo Stato perlomeno lo Stato in cui esista una democrazia tende a perdere comunque ricchezza risulta ovvio che lo Stato si trova poi obbligato a prendere a prestito denaro e quindi il debito dello Stato debba essere considerato come un debito a rischio e pertanto lo Stato deve essere completamente assoggettato ai cosiddetti mercati dei bond ed è esattamente questo che sta succedendo adesso. nell'ultima parte della mia presentazione cercherò di dimostrare che non esiste modo di risolvere risolvere questo problema e accomodare il sistema perché come ordine sociale ha una sua logica e coloro che controllano il sistema non accetteranno mai alcun tipo di cambiamento soprattutto nessun tipo di intervento della banca centrale europea unicamente nel caso in cui tale intervento mirasse ad incrementare la ricchezza delle banche quindi l'unica possibilità di salvare la società europea è di liberarsi di questo sistema il settore privato il settore capitalista in Europa è morto per citare anche Michael Hudson i leader del settore capitalistico non sono più interessati all'economia reale sono percettori di rendite finanziarie e quindi il capitalismo europeo sta morendo la crescita in Francia già da 5 6 anni è al di sotto del 3 4 per cento all'anno per quel che riguarda l'euro come ho scritto grazie all'invito della collega Stefani Kelton molto molto tempo fa ho capito tante cose e ho scritto un articolo che parla proprio di una moneta falsa contro l'economia reale che distrugge tutti gli effetti l'economia reale però prima di tutto cerchiamo di spiegare brevemente quella che è l'origine di un sistema così assurdo ci sono due fasi nella pianificazione del sistema dell'euro la prima è del periodo fra le due guerre nel periodo che va dal 1940 al 43 e la seconda fase riguarda la realizzazione del sistema ed è debbo riconoscere opera in gran parte del lavoro di François Mitterrand cominciamo dalla metà degli anni trenta con persone come Schumann Jean Monnet Jean Monnet Schumann Schumann scrisse scrisse che nel 1927 c'era bisogno di creare l'Europa come un nuovo ordine come nuovo ordine radicato nella tradizione salvare l'Europa dalla decadenza dalla decadenza ma la decadenza per i pro europeisti significa socialismo rivoluzione proteste ebrei i marxisti il libero accesso alla sanità e all'istruzione l'aborto l'omosessualità eccetera eccetera e altra cosa estremamente interessante per i primi pro europeisti l'obiettivo era quello di creare un sistema completamente opposto rispetto alla società degli Stati Uniti che odiavano e l'elite europea era odiava la società dei consumi americana fatta di centri commerciali eccetera quindi odiavano più gli Stati Uniti con questo sistema che l'Unione Sovietica e adesso la situazione è assolutamente la stessa che cosa si doveva fare per costruire l'Europa abolire gli Stati forzare uno stato di deflazione permanente andando a ridurre e a ridurre e a ridurre la spesa pubblica avrebbe potuto essere utile anche trasferire il potere a una classe diciamo super partes di tecnocrati che operasse a livello sovranazionale ma per questi europeisti della prima ora cosa significava l'Europa significava creare un condominio un condominio fatto da Francia e Germania e un impero coloniale che includesse anche il sud dell'Europa e l'Europa orientale e questo obiettivo era stato chiaramente esplicitato come si poteva sopprimire lo Stato bisognava privarlo di qualunque potere di qualunque potere relativamente alla moneta tutti questi europeisti erano fanatici seguaci di Friedrich Hayek l'economista austriaco più di destra di quel tempo e quindi l'Europa avrebbe dovuto basarsi su una valuta sovranazionale interamente controllata da una banca centrale sovrana che godesse di poteri assoluti per appunto sovrastare gli Stati in ultima analisi il loro obiettivo era di imporre la futura valuta europea come un super standard aureo il primo abbozzo per così dire del trattato di Maastricht che venne scritto da un economista francese François Perou nel 1943 con il pieno supporto di un trattato approvato dal regime tedesco e il regime francese pro nazista del tempo e il nuovo trattato che è stato formulato e deciso dal presidente Sarkozy e dalla signora Merkel è esattamente basato su quanto scritto da François Perou nel 1943 queste persone erano contrarie allo standard aureo tradizionale poiché ritenevano che lo standard aureo non avesse permesso la totale abolizione del potere dello Stato del potere di spesa dello Stato quindi praticamente bisognava creare uno standard aureo superiore e questa era la prima fase del processo ma per qualche tempo il progetto europeo venne tenuto diciamo nelle retrovie perché tutti i suoi fautori erano più pro-hitleriani di Hitler stesso per cui è stato necessario aspettare aspettare che arrivasse François Mitterrand potrei parlare di questa questione ampiamente perché io sono stato fra l'altro contattato dal collaboratore di Mitterrand di estrema destra che odiava il mondo moderno che odiava gli Stati Uniti la monarchia un monarchico era addirittura che diceva odio i poveri Jacques Attali de facto Jacques Attali era il primo ministro della Francia e Attali era responsabile di 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 tutta una serie di ex marxisti convertiti in sostenitori del nuovo regime quindi era responsabile di creare una versione più sostenibile del sistema dell'euro Comunque la visione generale era la stessa dobbiamo distruggere i centri commerciali il consumismo i centri commerciali per loro erano espressione di pura infamia le persone dovevano accettare di essere povere mi ricordo di alcuni dibattiti in seno alla commissione segreta che si occupava dell'entourage di Mitterrand Mitterrand doveva riuscire a vincere il supporto dell'allora partito comunista anche la Francia aveva un partito comunista ma adesso non c'è più quindi sono stato incaricato di scrivere una serie di modeste considerazioni chinesiana di teoria economica moderna ma da tali venne richiesto dai finanziatori della campagna di Mitterrand che erano i massimi finanziatori c'era anche la Chase Manhattan Bank e altre due banche americane comunque non sono stati mai dati dei soldi per istituire un programma di piena occupazione a tali diceva io ho l'impegno del nostro caro futuro presidente appena possibile noi distruggeremo lo Stato creeremo una deflazione dell'economia i salari reali crolleranno e quel che abbiamo in mente è il collasso totale del 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 reddito dei lavoratori della società francese come riuscire a fare tutto questo con il trattato di Maastricht e con la creazione dell'euro voglio concludere il mio intervento sottolineando innanzitutto quelle che sono le menzogne è successo mi è capitato di trovarmi piuttosto vicino a François Mitterrand molto tempo fa prima della guerra aveva avuto un legame particolare con mia madre mia madre che mi diceva François è così bravo a raccontare balle che può riuscire a far credere anche che gli interessi far del bene alla gente Comunque François Mitterrand durante l'unico dibattito sul trattato di Maastricht osò dire in risposta a una domanda da parte di uno studente io posso giurare che non esiste non esiste alcuna menzione di una banca centrale europea indipendente nel trattato secondo punto il principio fondamentale dei trattati europei era la privatizzazione dello Stato cioè di obbligare gli Stati a prendere a prestito denaro vendendo titoli alle banche private e quindi gli Stati un po' come qualunque tipo di azienda azienda però con una reputazione estremamente pura dovevano andare a chiedere i soldi alle banche ai tassi di interessi stabiliti dalle banche e quindi per concludere dirò che il trattato di Maastricht e il conseguente patto di crescita e stabilità che ne è conseguito fra l'altro il vero nome avrebbe dovuto essere il patto di distruzione e di instabilità rappresentò la realizzazione dei loro obiettivi e cioè che alla fine gli Stati sarebbero stati completamente assoggettati alle banche private e quindi sarebbero stati obbligati a tagliare, 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 tagliare la spesa e questo è esattamente quello che è successo pertanto le menzogne continuano e per concludere cercando di essere breve la percentuale di debito pubblico nell'ambito del patrimonio delle banche francese e tedesche è al di sotto del 5% le banche perdono soldi non a causa del debito pubblico ma a causa del collasso totale dell'economia reale e secondo punto sono assolutamente terrorizzato quando la gente dice oh povere banche il governo francese ha mentito ma è assurdo tutti lo sapevano tutti sapevano quale fosse la vera condizione dell'economia greca il 90% del debito greco un po' come l'italiano è nelle mani delle banche francesi e tedesche e quindi tutti lo sapevano questo fra l'altro quel che succede ora grazie al nuovo trattato se effettivamente verrà poi approvato ci troveremo di fronte alla totale abdicazione degli stati delle politiche fiscali e di qualunque tipo di politica sociale e quindi sarà raggiunto quel sogno di costituire un nuovo ordine e adesso il problema di chi deve gestire il sistema come si potrà mantenere il controllo della società e questo è il problema che si pongono di questo hanno timore perché non c'è dibattito gli economisti ufficiali in Germania in Francia nella maggioranza dei paesi europei sono assolutamente corrotti direi addirittura che si possono considerare delle prostitute ufficiali praticamente e siamo nelle loro mani non si parla quindi mai delle infamie alla base del crollo del sistema europeo questo è il problema grazie 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 grazie